Buon pomeriggio carissimi amici della comunità scientifica e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo provare a mettere questa pastiglia effervescente alla vitamina C scaduta Procurata dal mio vecchio amico Davide Guida E metterla e buttarla dentro l'acqua Sappiamo tutti che le pastiglie effervescenti quando le butti nell'acqua è effervescente Fa le bolle Ci vuole tanto arrivarci E volevo riprendere tutto in slow motion Prima normalmente e poi una ripresa macro da vicinissimo E vediamo un po' come si comporta questo fenomeno 3, 2 euro Grazie a tutti 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 Per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo esperimento. In slow motion come... come... Come posso dirlo? Come posso dirlo in parole povere? E vediamo in slow motion come l'effetto effervescenza si comporta, ma questa è la taglia, guarda che fa schifo. Così vediamo in slow motion, 40 volte più lento rispetto alla velocità normale, come si comporta questa pastiglia... Come si comporta questo... Come si comporta questo fenomeno? Non è a prendere le scorte d'acqua. È una notchia buona. Sentite? Un aereo? Cazzo, un evento più unico che raro qua un aereo, Dio buono. Passa un aereo ogni due minuti, mannaggia tutti quanti. Sempre quando registri. Intenta, come questa destra. Ok... Ok... Passa un aereo ogni ver conquest. ulle...